Volevo farvi tanti auguri di Buon Natale, tanta pace e serenità da Marika, Ugo compagno suo e da tutti gli amici che mi hanno tenuto compagnia in questa allegra giornata e di fronte a questa tavola imbandita. Auguri soprattutto anche alla signora che compie 80 anni, la signora compie 80 anni, guardate qua, eccola qui. Abbiamo fatto amicizia prima con tutti anche i suoi parenti, insomma l'hanno festeggiata alla grande. E allora un caloroso augurio veramente a tutti, Buon Natale, felice feste a voi e a tutti i vostri cari, Marika Fruscio.